Gli ammortizzatori sociali oggi, soprattutto nelle aree più critiche, quelle collegate al motore FIRE, non garantiscono a tutti la corretta maturazione dei ratei, in parole povere, giorni di ferie, permessi e tredicesima per una perdita mensile di circa 150 euro. Riteniamo che questa situazione non è più accettabile. I sindacati hanno chiesto un incontro urgente alla direzione del personale della fabbrica Stellantis di Termoli. Il motore FIRE è sempre stato il fiore all'occhiello della fabbrica, simbolo del Molise, il reparto tecnologicamente all'avanguardia che ha fatto definire il Termoli Plan l'università dei motori, garantendo sviluppo, occupazione e innovazione. Ma le prospettive non sono rosee, tanto che già in atto nei fatti un'agonia del reparto, tra mercato in netto calo e la scelta aziendale di Stellantis di vendere o di montare sotto le nuove vetture, motori made in Francia. Tutto sarà motivo di confronto nel vertice richiesto dalle organizzazioni sindacali. Questa presa di posizione delle parti sociali all'indomani della riunione con la direzione aziendale, riunione durante la quale è stato annunciato che per la prossima settimana tutti i lavoratori della fabbrica, tranne una trentina, si fermeranno. Ennesima cassa integrazione. Grazie a tutti.